Instead of going under, instead of going under Ciao ragazzi qui Locke e benvenuti in questo nuovo video della Vanilla Volevo approfittare di questo video che dovrebbe essere relativamente corto perché devo solamente uccidere il Wither e star fermo Volevo approfittarne per ringraziare una persona di cui mi sono innamorato Quando ero al Torino Comics ho passato tutta la giornata praticamente con queste due persone Sono Chiara e Gaia e Chiara finalmente mi ha portato le fanart E adesso andrò a mettere lì al muro insieme a tutte le altre e lo tappezzerò tutto di fanart Quindi quando ci sarete alle prossime fiere vi prego di darmele perché le appenderò tutte in camera Ciao ragazzi questa, quanto l'adoro, è bellissima E poi c'è questa di Federica che mi sembra di averla fatta vedere già in un video Ma se non fosse l'ho fatto vedere in questo, quindi hai perso la scommessa perché mi hanno fatto una scommessa E poi ragazzi mi avete regalato un box intero di carte che neanche l'avevo chiesto Poi i due ragazzi hanno fatto la colletta per regalarmi questo bellissimo anello di Loki Tra l'altro con questo ho fatto il brofist con uno che aveva il cosplay di Thor E tipo sono andato lì così e gli ho fatto Brofist Boom Per il resto voglio fare un video a riguardo dove ringrazio tutte le persone che sono state con me al Torino Comics È stato veramente, giuro non lo dico mai, ma è stato uno dei giorni più belli della mia vita Veramente mi sono svegliato con gli addominali e le guance mi facevano male il giorno dopo Perché avevo riso talmente tanto, era il giorno in cui io ho riso e urlato più di tutto in tutta la mia vita Ehi ma è partito un timelapse, non so cosa dire, la musica non c'è, perché non c'è più musica? Oddio Lasciate un bel mi piace ragazzi perché questi qui sono degli episodi intermezzo Senza i quali non riuscite a capire cosa farò poi nei prossimi episodi che saranno quelli molto più importanti Sono episodi corti che mi servono anche come vlog Quindi riesco a dire alcune cose che magari nei video importanti come la vanilla così non posso realmente dire E niente, lasciate un bel like, commentate con hashtag Lampo perché dal prossimo episodio dovremmo rincominciare Perché facciamo il Death Note, facciamo un libro gigantesco Niente, bella Comunque se volete questo cappellino lo trovate in descrizione, non è assolutamente una pubblicità perché ho dovuto pagarlo io questo cappello E mi piace veramente tanto, è della Dolly Noir e la volevo supportare apposta perché è della mia città natale, cioè di Milano E per questo l'amo questa marca Ehi, sono tornato! In questo episodio vi volevo far vedere un po' di cose, dei trucchetti anche E come mai le pecore rosse e le pecore lime morivano sempre in questa farm Che poi dopo dovremo andare a fare e sarà tutta automatica Andrà qui dentro all'Arcade Machine Qui ci saranno tutti i colori E li smisteremo con lo smistamento delle ceste Comunque vi spiego, se premete F3 più G da computer ovviamente Vedrete questi qua, i Chunk Border Ora, i Chunk Border mi davano dei problemi assurdi Perché praticamente, vi farò vedere in sovraimpressione degli screen Il ricinto delle pecore rosse e il ricinto delle pecore lime Era a cavalcioni Tra questi Chunk Quindi quando si caricavano, non so che cavolo succedesse Ma praticamente è come se prendevano tipo un coltello E zaaah! Tagliavano a metà le pecore Le pecore morivano e mi davano la lana Non ho mai capito perché Quindi ho dovuto rifare tutto Spostandolo di un blocco più a destra Perché qui era cavalcione tra due Chunk Ragazzi, quando dovete fare le farm Non fate mai qualcosa in mezzo tra due Chunk Che è un consiglio che vi do Oggi è arrivato il momento in cui noi prenderemo Quattro souls in elementare In cui noi andremo ad ammazzare il weeder Per poi fare quello che mi avete consigliato E finalmente rifarò gli hashtag lampo Nel nostro death note Perché uno mi aveva consigliato Fa il beacon con il raggio che parte Arriva in cielo e fa il segnale di Batman Come proprio nel cartone, nel film Che c'è il bat segnale che richiama Batman E adesso nell'ender chest Dove è l'ender chest? Eccola qua Prendiamo l'ender chest e dovremmo trovare Le tre teste di weeder Che abbiamo già trovato da mesi che stanno collezionando Una testa di weeder normale Che insieme agli altri della Tabicraft Faremo un episodio dove lo uccideremo O forse non lo so Sapete che si può anche catturare il weeder Ce l'ho potuto tenere come animaletto da compagnia È bellissimo, vorrei fare anche quello Ciao Leo Ogni volta che entro nel nero sento Puzza di arcobaleno Con la pecora lì che fa le puzzette Mi dà un fastidio Allora qui sopra da qualche parte Ci dovrebbe essere Il posto di cui ho bisogno Allora ho scritto in chat le coordinate Dove dovremo andare in questo episodio Quindi dove siamo? Ci siamo? Mi sa che ci siamo ragazzi Siamo arrivati al punto giusto Qui adesso dovremmo fare Una cosa che non si faceva della seconda guerra mondiale Cioè Mi piace troppo tipo spicconare così Dobbiamo cercare il punto esatto in cui si andrà a incastrare Uh questo mi sembra più che Questo è perfetto ragazzi Madonna Questo è perfetto È perfetto sto posto È perfetto Adesso sbaglio Muoio Devo mettere una soul sand qua Una soul sand qua Qua E qua Ok Adesso possiamo girarci Giro dell'oca Che battuta bruttissima Allora forse molti di voi non sanno che Chiamiamo l'altare L'altare per evocare il wither Non si può fare solamente in verticale Ma si può fare anche in orizzontale così Allora Siamo pronti raga No 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 io non c'ho coraggio No e a parte che dobbiamo Anche mettere una piattaforma qui Sennò lui scende e poi ci ammazza Raga Io sono pronta Sono pronto Aspettavo questo momento Da quando mi avevano proposto quelli dell'idea lì Dell'hashtag lampo di fare Il segnale di batman Spero di non failare Spero di non failare E' sponato? E' sponato? E' sponato raga Allora adesso Lui Dovrebbe soffocare Nella bedrock Adesso aspetta c'è la piccola esplosione Aia Ok adesso lui sta morendo Raga Basta che stiamo fermi Ah ci metterà tantissimo Quindi ve lo lascio in timelapse Il voto! Ce l'ho fatta No che di spawn Ce l'ho fatta L'ho presa Fa anche luce Che bella è Fa luce No raga l'ho presa Best reaction ever Tutto lo zucchero a via in giro Ragazzi si possono fare tantissime cose Con la stella del nether Cioè voi avete mai scavato la terra Con la stella del nether Forniamo a casa Buon lavoro soldato Siamo tornati a casa ragazzi Abbiamo la stella del nether No che figata raga Che figata Ragazzi sapete cosa Se permette il tasto like C'è questo bottone qua Questa nether star diventa un beacon Fatelo Vedrete che succede Allora passiamo alla crafting Mettiamo tre di ossidiana Una nella the stether Oddio Sono mezzo dislessico Scusate Inverto sempre la prima lettera Di due parole Nella the stether Che cazzo E poi il vetro attorno E boom Il faro No raga Che figata Che figata Wow Come è fatto a mancarmi da fermo Cazzo se tu vieni in guerra Sei il primo a morire Oh si è successa anche la nostra scritta Che bella Ragazzi qui dovrei avere tutti i materiali I blocchi di diamante E se non ce la facciamo Il prossimo episodio Andiamo a farmarli Finchè Ne farmiamo talmente tanti Che facciamo il beacon E se non bastano Vabbè ho fatto un episodio in miniera E lo facciamo tipo in blocchi di ferro E nel prossimo Nel prossimo ancora Farmerò talmente tanto Che riuscirò a fare il beacon Con i blocchi Di diamante Solo Se commentate E mettete un bel pollice in su A questo video Quindi ragazzi Da Lucky è tutto Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordi di lasciare un bel mi piace Un commento Iscrivervi Se ancora non l'avete fatto Ed entrare nel club Seguirmi su Instagram E farmi qualche fan art E così magari alle fiere Quando ci vedremo E anche se non ci vedremo Magari le posso anche stampare Le appenderò qui Al muro Seguirmi sul canale Telegram Perché ho anche un gruppo Dove potremo parlare insieme Proprio che potete iscrivere anche voi E niente Trattatemi bene Princess Raptor Perché Presto ci sarà la luna di miele Oh mio Dio Si è spento l'occhio Mentre parlavamo Si Non capisco mai Perché si spegne Un pochino in ritardo A volte Il daylight sensor È un po' Ok si è spento Anche il 2 Ah ma perché deve Il sole deve far così Guarda che Bravo anche l'1 Raga È la prima auto Con questo cappello Ricordatevela Bella No Lo posso far passare Adesso qua Che figata E però non fa il nero Così fa il nero Sì Spera proviamo No Così fa il nero Ok Bella Spera proviamo Spera proviamo Grazie per la visione!